Come avete sentito, si parte per questo day 1, come vedete sono le 6 e mezza, la sala non è ancora piena, anche perché con gli stecchi e i livelli così elevati, la gente se la prende con comodo. Oggi naturalmente i posti erano limitati, abbiamo detto massimo 60-70, è stato aggiunto un giorno in più, domani ci saranno invece 140 persone per oltre 200 presenze che dovrebbero portare il Monteprimi a 60.000 euro. Questo è il Grand Slam of Poker, è stato organizzato da Assogold Power Poker, siamo noi di Poker Italia, web a seguire l'evento. Questo è il primo video di presentazione. Oggi abbiamo 5 pivelli in gioco, poi andremo a vederli. Finalmente si gioca, che è la cosa principale. Grazie.